Bentornati sul canale! Le avventure in Albania sono finite e quindi è tempo di informazioni e consigli. Siamo Marco e Sofia, dal giugno 2021 viviamo a bordo di Wollaby. Nel primo anno e mezzo abbiamo viaggiato per tutta l'Europa e lavorato in Norvegia per finanziare il nostro sogno, dall'Italia all'Australia in camper. Attraverso i nostri video vogliamo condividere con voi le nostre avventure, sfide, scoperte e incontri che faremo lungo la strada. Iscriviti al canale per viaggiare con noi verso Oriente. Partiamo dalla Dogana. Come in tutti i paesi i documenti richiesti sono passaporto oppure carte d'identità valide per l'Espatrio. Potete rimanere in Albania per 90 giorni nell'arco di 6 mesi. La patente italiana è valida. Per quanto riguarda il vostro mezzo dovrete controllare sulla carta verde che sia compresa l'Albania. Molto spesso le assicurazioni italiane non la comprendono, quindi bisognerà stipulare un'assicurazione in frontiera oppure, come è successo noi, dato che è una frontiera molto piccola, abbiamo dovuto proseguire al primo paese e farla successivamente. Vi lasciamo qui le tariffe. Noi abbiamo pagato 49 euro per 15 giorni. Molti dicono che questa tariffa sia per le auto, i camper hanno delle altre tariffe. Noi ci siamo fidati dell'assicuratore. Tra l'altro quando fate l'assicurazione c'è il pericolo di essere fregati. Dovete fare attenzione al numero di matricola dell'assicurazione che venga scritto sul foglio che vi verrà lasciato. Il numero proprio identificativo dell'assicuratore, le date di inizio e di fine dell'assicurazione. Tutte le firme sia dell'assicuratore sia la vostra. Dopodiché potrete essere tranquilli. Noi c'è stata controllata poi in uscita dalla polizia e non ci hanno detto nulla. Se ci fosse stato qualcosa credo che ce l'avrebbe detto. Per quanto riguarda la moneta, in Albania non c'è l'euro ma c'è il LEC. Abbiamo trovato quei negozietti dove si scambiano i soldi al tasso corretto. Quindi quello che c'era su Google ci hanno cambiato i soldi. Quindi vi consigliamo di fare così, portarvi degli euro e scambiarli là perché se dovete prelevare la commissione è piuttosto alta di 5-6 euro. Per navigare in Albania abbiamo deciso di comprare una SIM della Vodafone. Infatti abbiamo comparato le diverse compagnie telefoniche e abbiamo visto che Vodafone ha l'offerta migliore. Con 18 euro si hanno 35 GB per un mese. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, purtroppo la nostra tessera sanitaria italiana non è valida in Albania. Quindi se volete rimanere coperti dovrete stipulare un'assicurazione sanitaria vostra. ci sono diverse compagnie con diversi prezzi. Per quanto riguarda il carburante, in questo paese il prezzo può variare. Noi abbiamo pagato circa 1,55 euro, 1,60 euro. È molto importante che quando andrete dal benzinaio specificate che volete pagare con una carta perché noi abbiamo fatto il pieno, dopo abbiamo chiesto di pagare con carta e il benzinaio si è arrabbiato. Quindi per fortuna abbiamo potuto pagarlo in euro perché non avevamo così tanti lack. Abbiamo fatto la conversione sul telefono con Google. Quindi la conversione di quel momento ha accettato gli euro. Ed è stata l'unica esperienza. Diciamo che in generale comunque accettano più facilmente i contanti. È un po' più difficile trovare un benzinaio con un banco, Matt. Infatti praticamente ovunque abbiamo pagato in contanti. Tra l'altro è impossibile rimanere a piedi perché praticamente ogni 200 metri c'è un benzinaio e anche farvi lavar la macchina sarà davvero facile perché non abbiamo mai visto un paese con così tanti autolavaggi. Autolavaggi in realtà ve la lavano loro. Ma ovunque, magari nell'hotel c'è l'autolavaggio. Vai a tutti i benzinaio e ce l'hanno. Al ristorante c'è l'autolavaggio. Insomma, avrete il camper super lucido in Albania. Per quanto riguarda invece il cibo ai 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 perché non ci sono grossi supermercati i mini market sono carissimi perché i prodotti sono tutti importati. Troverete una selezione molto ridotta e prezzi alti. Invece per quanto riguarda frutta, verdura e pane trovate prezzi molto convenienti. Troverete delle ottime panetterie con tante pizzette, cose gustose, burek che sono molto economici. Infatti anche a Berat, nelle città più turistiche l'abbiamo trovato in veramente ottimo prezzo. Infatti solitamente la nostra pausa pranzo è in panetteria. Per quanto riguarda i ristoranti come la nostra regola di viaggio è di mangiare almeno una volta al ristorante per provare la cucina tipica. Questa volta in Albania ci siamo fermati in un agriturismo abbiamo mangiato veramente bene con prezzi buoni e tra l'altro la cosa bella è che spesso vi danno la possibilità di rimanere a dormire nel loro parcheggio. Quindi alla fine con un prezzo che può equivalere magari a una notte in campeggio vi mangiate anche un buon piatto. Il nostro contatto con i local è sempre stato molto friendly infatti sono molto accoglienti soprattutto con gli italiani abbiamo avuto una volta un ragazzo che ha proprio smesso di lavorare di fare quello che stava facendo il corso in strada per saludarci ciao Italia è stato carino sono molto particolari oppure ci parlavano delle serie tv che vedevano però erano un po' troppo vecchie perché la loro tv prende i canali italiani per questo troverete molti albanesi che conoscono un po' l'italiano oltre al fatto che molti di loro magari hanno parenti in Italia e quindi conoscono un po' la lingua inoltre ci è successo magari di girare per la città con la testa per aria che non sapevamo dove girarci qualcuno se ne ha gordo siamo venuti subito incontro perché avevamo bisogno di internet la nostra promozione era finita e questo signore ci ha accolto nel suo ristorante sottolineando che non avremmo dovuto per forza mangiare e ci ha subito connesso al suo wifi quindi sono veramente molto disponibili anche i pastori che incrociavamo per strada hanno sempre un sorriso pronto il saluto sono veramente molto carini comunque bisogna prestare un po' di attenzione quando farete delle compre perché dato che c'è il lec come sempre in ogni paese dato che c'è il lec ci si può confondere molto facilmente noi abbiamo avuto una piccola disavventura una signora voleva venderci sei uova a sette euro pensavamo che che si sbagliasse però quando proprio gli abbiamo fatto vedere i contanti la quantità di soldi in contanti era quella che voleva quindi ho detto siamo andati via anche no questo ovviamente può capitare ovunque a noi è capitato qui e basta fate attenzione e mi raccomando sempre magari avere aperto sul telefono il cambio di google che almeno così sapete quanto vi sta chiedendo quindi un consiglio comunque è sempre chiedere il prezzo prima perché spesso abbiamo visto che non viene scritto il prezzo dei prodotti quindi prima di dire ok prendo questo prendo l'altro chiedere sempre prima il prezzo poi magari si può anche un po' contrattare sì perché diciamo che la sensazione che abbiamo avuto non solo in Albania ovunque anche adesso che siamo in Turchia e che loro fanno un po' il prezzo in base a come vedono la persona se è turista se sembra con i soldi insomma però in Albania sono stati onesti infatti sono andato a tagliarmi i capelli e ho pagato 2 euro e 70 spettacolo capelli e barba quindi penso che più onesti di così non si poteva a differenza dalla Turchia che poi ve ne parleremo è un paese che fino a 30 anni fa c'erano solo si dice 4.000 auto in tutto il paese infatti col comunismo era proibito avere un proprio veicolo quindi quando l'Albania è uscita dal comunismo e le persone hanno iniziato a comprare auto le strutture le strade non erano predisposte a così tante auto e questo si riflette ancora oggi infatti a Scuteri in una città di 135.000 persone non c'è un semaforo cioè guidare è veramente una pazzia in doppia fila si attraversa senza guardare la gente vuole passare anche se cioè normalmente uno si ferma lascia un casino se non venite non potete capire poi si può trovare animali per strada cioè noi abbiamo visto una mucca sull'autostrada quindi bisogna prestare attenzione è molto viva la strada in Albania ce n'è solo una che è nuova quindi è perfetta che è la principale che attraversa Tirana le secondarie sono piene di buche sono veramente disastrate e poi Google Maps vi dà il colpo di grazia ovvero vi fa andare nelle strade sterrate più impensabili dell'Albania addirittura noi ci voleva far andare in quella che chiamano la strada più pericolosa dell'Albania la segnava anche in giallo esatto la segnava come principale insomma vi abbiamo raccontato le nostre avventure sulle strade albanesi in un sacco di video le potete trovare qui quella più interessante quella più viva quindi spesso vi troverete a tornare indietro per parecchi chilometri c'è una strada d'accesso asfaltata poi quelle che proseguono sono tutte sterrate quindi se avete un fuoristrada vi divertirete se avete un van o un camper cercate di stare sulle strade principali libera e legale uno dei pochi paesi d'europa in cui si può campeggiare spettacolo infatti siamo stati in posti veramente molto belli in Albania c'è solamente un'area verde in cui tra l'altro siamo andati c'erano tantissime piazzole oscurate con l'ombreggiante con l'energia elettrica con l'acqua con un lago quindi molto carina però ce n'è solo una in questa area camper però non c'erano i servizi di scarico infatti per svuotare il wc o le acque grigie dovrete affidarvi a dei campeggi abbiamo dormito una notte in campeggio nella nostra permanenza in Albania l'abbiamo fatto a Berat dove con 15 euro abbiamo trovato un campeggio che c'era tutti i servizi internet corrente e la cosa più importante era lavatrice e asciugatrice infatti per quanto riguarda le lavanderie quella gettoni sono solamente a tirana ma non mi consigliamo di andare in camper perché è una cosa che non ha senso caotica traffico veramente impensabile e tutte le altre sono lavanderie classiche che si paga al chilo quindi è un po' più costoso ci possono essere incomprensioni è molto meglio trovare quindi un campeggio che ha la lavatrice così ve la fate voi tranquillamente spesso il costo è compreso per quanto riguarda i parcheggi abbiamo sempre sostato vicino ai centri storici gratuitamente quindi ci siamo sempre sentiti sicuri per esempio a Berat eravamo proprio sulla strada c'era un parcheggio lunghissimo a Cruy era un parcheggio al coperto comunque ci siamo sempre trovati bene anche su Par4Night c'erano delle buone recensioni infatti non abbiamo avuto problemi se andate a Tirana che magari è la città più grande forse è meglio affidarsi un parcheggio custodito per il resto del paese noi per la nostra esperienza non ne abbiamo avuto bisogno tra l'altro l'Albania probabilmente perché il campeggio libero e legale è veramente molto frequentata dai camperisti noi abbiamo praticamente tutte le notti dormito con altri camperisti quindi non siamo mai stati soli non abbiamo mai avuto problemi di notte allora la domanda che molti ci fanno è sicura l'Albania assolutamente sì noi non abbiamo mai avuto problemi come vi abbiamo detto prima abbiamo sempre dormito in compagnia ma anche se si dorme da sole non ci sono problemi ovviamente non andate in centro città in centro tirana a dormire in un parcheggio lungo la strada oppure la città che noi abbiamo visto che forse è un po' più insicura è la città di Scutari che quella è veramente particolare lì abbiamo parcheggiato vicino allo stadio che era una zona abbastanza frequentata però abbiamo visto che era tranquilla però è una città che ci vuole un po' più di attenzione per il resto nelle altre città sono veramente differenti infatti Scutari è stata la prima città che abbiamo visto e abbiamo detto un po' d'impatto è molto più arretrata secondo noi rispetto alle altre invece a Berat è una città bellissima super turistiche super turistiche quindi belle tra l'altro c'è tantissima polizia che gira noi non ci hanno mai fermato sì possibilo che ce ne sono veramente tanti ma appena vedono penso una targa straniera lasciano correre infatti abbiamo visitato parecchi giorni anche con il nostro amico François francese entrambi non siamo mai stati fermati quindi pro e contro di un viaggio in Albania come pro la natura bellissima canyon spiagge abbiamo visto nel sud c'è questa zona che la chiamano la Bora Bora c'è un'acqua turchese veramente spettacolare spettacolare terme montagne delle meraviglie del genere città molto belle con una grande storia dietro anche con un tocco ottomano sì quindi molto molto interessante l'Albania è stata una bellissima scoperta persone come vi abbiamo detto molto disponibili molto gentili ospitali aperte al turismo infatti per loro è una fonte molto importante per quanto riguarda il contro le strade come vi abbiamo detto sono veramente disastrate ci va veramente un po' più attenzione nel percorrerle e questa difficoltà nel reperire prodotti a cui magari siamo abituati quindi in questo caso in Albania bisognerebbe stare più su frutta e verdura leggeri non siamo mai riusciti a trovare una macelleria che ci desse fiducia poi magari siamo un po' schizzinosi noi però questo è il nostro video quindi vi diciamo le nostre sottolineiamo questa è la nostra esperienza basata sui 14 giorni che abbiamo passato in Albania tra la fine di marzo e l'inizio di aprile quindi ognuno ha la propria esperienza se avete altre esperienze scrivetelo qua sotto nei commenti e nulla il nostro video informativo sull'Albania finisce qui ci torneremo con un bel 4x4 assolutamente sì perché ci sono ancora tanti posti inesplorati off-road e ci vediamo al prossimo video con il nostro ingresso in Grecia